Il terzo incontro professionistico di questa serata per la categoria Pesi Super Medi sulla lunghezza delle sei riprese arbitra l'incontro il signor Daniano. E ora all'angolo blu con un peso di 77,4 kg un record di 0 vittorie una sconfitta e 0 pari per il team Popovic. Diamo il benvenuto a Jovan Stokovic! E ora contro la TV all'angolo rosso! Con un peso di 77,7 kg un record di una vittoria, 0 sconfitte e 0 pari per il team Glorious Gym diamo il benvenuto a Riccardo Nella Finale! Grazie! 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 Poi ripesa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti